beh ragazzi ce l'abbiamo fatta amore mio siamo arrivati 30 mila e 8 già porca ragazzi 30 mila di voi hanno voluto sostenere questo canale in una maniera meravigliosa spropositata allora ragazzi quindi noi andiamo a fare il contest numero 13 per regalare un bonus da 10 euro che potete spendere come preferite su fortnite portafoglio psn portafoglio xbox pay safe card dovete commentare sotto questo video non in chat sotto questo video ne vogliamo altri 30.000 ok vai schicchiaffa sto five ne vogliamo altri 30.000 e ragazzi vale un commento due o tre vengono cancellati poi mi raccomando sotto qui ciao no